L'Università di Teramo ha conferito al prefetto Luigi Savina l'onorificenza dell'ordine al merito dell'Ateneo Guido II degli Aprutini nel corso di una solenne cerimonia svoltasi nell'Aula Magna Benedetto Croce. È stato il rettore Dino Mastrocola a prendere la parola per primo dopo l'ingresso del corteo del Senato accademico e a introdurre la lexio magistralis del prefetto Savina. Chietino di nascita, Savina si è laureato all'Università di Teramo, ha diretto la squadra mobile della Questura di Palermo, il centro interprovinciale Criminal Pol di Napoli e la squadra mobile della Questura di Milano. Oggi riveste il prestigioso ruolo di vice direttore generale della pubblica sicurezza con funzioni vicarie. Attenzione massima all'Abruzzo, dichiara Savina, dove in tema di sicurezza la guardia non va mai abbassata. Oggi qui rivedrò il procuratore generale, ricordo, giovane sostituto a Pescara negli anni 90 quando c'è stato un primo tentativo di aggressione di natura mafiosa verso l'Abruzzo. La risposta però data all'autorità giudiziaria e da noi investigatori con una serie di provvedimenti di cattura per 416 bis. Quindi l'attenzione c'è sempre stata massima. E oggi il riconoscimento da parte dell'Università di Teramo? Un riconoscimento che prendo io come Luigi Savina, un grande onore perché 40 anni fa, il 16 marzo 1979, mi sono lavorato in questa università, ma nel prendere questo riconoscimento, questa onorificenza, così come ogni altro che mi è stato dato, io ricordo tutti gli uomini che hanno lavorato con me perché per me è fondamentale il concetto e la squadra, tutti quanti assieme si riesce a fare un ottimo lavoro. Il primo ordine al merito dell'Università di Teramo risale al 2015 e fu assegnato in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico a Giovanni Legnini, vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura. L'onorificenza è stata in seguito conferita all'europarlamentare Paolo De Castro, a Emma Bonino e a Edith Brook.